Ciao amici e bentornati. Nel video di oggi vedremo come ho realizzato questa simpatica decorazione natalizia. Un progetto semplice adatto per tutta la famiglia. Buona visione. Per questo progetto ho usato una pallina trasparente del diametro di 20 cm e un'altra da 14 cm. Delle decorazioni natalizie, io ho trovato queste, neve finta, un fiocco rosso, cartoncino di colore nero. Sono partito con fissare con della colla a caldo la pallina trasparente alla base. Poi con l'aiuto di alcuni pezzi di peristerolo ho fissato all'interno della pallina le decorazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Incollo anche la pallina più piccola e procedono allo stesso modo. Per realizzare il cappello ho tagliato un cerchio del diametro di 11 cm e una striscia da 8 cm per 30 cm di lunghezza. Ho incollato il tutto con colla a caldo e vinavil. Grazie a tutti. 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 nella crescita del canale condividi questo video sui tuoi social e se ancora non l'hai fatto iscriviti. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo progetto. Ciao!